Un fatto grave che dà l'idea come per qualcuno sia veramente tutto relativo e credo che in questa circostanza veramente vada biasimato quel perbenismo che consente a chiunque di esprimere la propria opinione anche quando la propria opinione significa dissentire rispetto a chi condanna gravemente e giustamente i gravi fatti di Parigi. Questa non può essere tolleranza perché significa altrimenti tollerare il seme dell'odio e il seme della divisione. Chi non è d'accordo con le nostre regole di convivenza civile può andarsene e tornarsene in qualsiasi altro paese del mondo ma chi sta in Italia, chi è in Italia o si adegua a regole di convivenza civile che devono portare al rispetto e alla condanna rispetto al terrorismo oppure deve essere perseguito.